GF VIP, Walter Nudo si emoziona con una foto dell'ex moglie Celine Mambour che è stato un momento molto emozionante stasera al GF VIP 2018 con protagonisti Walter Nudo e la sua ex moglie Celine Mambour. Hanno vissuto un grande amore, forse non ancora finito del tutto. La storia però è giunta a capolinea per dei motivi ben precisi e il concorrente sembra essere forte della sua scelta. Non è la prima volta che si parla dell'ex moglie di Walter, anzi al GF VIP in diverse occasioni lui ha raccontato il grande amore vissuto insieme alla stilista francese, ma anche i motivi che li hanno separati. E proprio per questo, oltre alle dichiarazioni dell'ex moglie stessa, molti pensano che potrebbero tornare insieme una volta che lui avrà concluso l'avventura al grande fratello VIP.Walter Nudo e l'ex moglie Celine torneranno insieme. Il vincitore annunciato del GF VIP è stato chiamato da Hilary Blasi nella Mystery Room e gli hanno mostrato un video riguardante la ex moglie Celine. Dopo il riassunto con tutte le sue dichiarazioni sulla storia d'amore, gli hanno mostrato un recente post su Instagram della stilista.Le ha condiviso una foto scattata al mare aggiungendo una didascalia enigmatica THDUCTVB? Ilari allora ha chiesto a Walter se fosse contento di questa dedica e cosa significhino a quelle lettere puntate, e lui ha spiegato certo, mi fa piacere. Il primo anello che le regala è l'escrissi THDUCTVB, cioè ti ho detto oggi che ti voglio bene. Glielo dicevo sempre. L'emozione negli occhi del concorrente era evidente, anzi si emoziona ogni volta in cui parla di Celine, anche se qualcuno crede il contrario. Quindi Alfonso e Ilari hanno voluto sapere se ci sono possibilità che Walter e la sua ex moglie tornino insieme.Walter è ancora innamorato dell'ex moglie? La verità al GFV ormai è single da diverso tempo e ha più volte detto di non aver avuto più contatti con una donna, dopo la fine di questo amore. Fatta eccezione per l'incontro ravvicinato avuto nella casa del GFV, a sorpresa. Ma è facile pensare che Walter sia ancora innamorato dell'ex moglie se ne sono accorti anche Ilari e Alfonso che c'è tuttora un forte sentimento a unirli. Potrebbero tornare insieme? Abbiamo provato tante volte e ci siamo lasciati tante volte. C'era un problema di base, io non riuscivo a dare quello che lei meritava. Mi assumo tutte le responsabilità. Non riuscivo a darle un figlio. Tante volte io andavo via perché pensavo che lei meritasse di più, un figlio. Io ero preso da mille cose, sai è una cosa molto delicata. Si era già sfogato a proposito dell'ex moglie al GFV, i suoi compagni non hanno fatto mancare il loro supporto e siamo certi che succederà lo stesso nei prossimi giorni. Anche per Walter nudo, comunque, quelli con l'ex moglie sono momenti indimenticabili.